La valutazione tende a incidere positivamente sullo sviluppo degli apprendimenti nel momento in cui è concepita, percepita e usata come un mezzo e non come un fine. Cioè deve essere sostanzialmente qualcosa che arricchisce l'attività, l'attività didattica, i processi, i prodotti e che li accompagna. Questa è la valutazione che può incidere positivamente. Tendenzialmente invece concepire la valutazione come bastone e carota, come premio e punizione, come obiettivo da raggiungere è un errore che tende ad avere un'incidenza negativa sullo sviluppo degli apprendimenti anche perché è un'incidenza negativa sullo sviluppo di una motivazione intrinseca allo studio e anche sul clima di classe. Se si sta peggio a scuola, si sta peggio in aula e stanno peggio non solo studentesse e studenti ma sta peggio anche chi insegna. Ecco in questo senso il cambiamento sul voto di condotta che sta per arrivare, cosa può cambiare anche per quanto riguarda il ragazzo, la valutazione del ragazzo? Può cambiare qualcosa, cambierà qualcosa? Non so quanto possa cambiare, non mi pare un cambiamento efficace, funzionale perché fondamentalmente è ancora una volta incentrato su un'idea di comportamento del tutto estrinseca, estrinsecamente motivata. Cioè io devo comportarmi bene perché altrimenti verrò punito. Credo che un ministero, una scuola che incentri su questo la partecipazione, la condivisione di regole, lo sviluppo di un'autodisciplina sia un ministero, una scuola che non abbia nulla a che fare con la democrazia perché in democrazia noi impariamo che certe regole vanno rispettate perché consentono a noi stessi di stare meglio con noi stessi e con gli altri. Usare il bastone e la garota non ha mai funzionato, non ha mai funzionato, a parte rarissime eccezioni, ma insomma, e non vedo come possa funzionare in questo caso. Grazie a tutti.